Una nuova avventura, un regalo ai nostri telespettatori. Inizia domani su Noi TV un ciclo di trasmissioni dedicato alla cucina, in collaborazione con gli chef dei più importanti ristoranti della provincia, tutti i giorni alle 12 e alle 18.55, cucinando con noi. Un viaggio attraverso le ricette che più incontrano il favore dei lucchesi. Un appuntamento da non perdere con i cuochi più rinomati, che insegneranno i loro trucchi ai nostri telespettatori. E così doppio appuntamento quotidiano con i piatti classici e stravaganti. I chef ci hanno infatti aperto le loro cucine per insegnarci a preparare antipasti, primi, secondi e dolci. Un viaggio attraverso il territorio per scoprire i piatti preparati con gli ingredienti della nostra cucina. Quindi cucinando con noi, una trasmissione da seguire tenendo carta e penna a portata di mano per imparare le ricette preparate nei migliori ristoranti della provincia di Lucca, tutti i giorni alle 12 e alle 18.55.